Daniela Lupo, leccese di 61 anni, si è insediata alla guida della prefettura di Trapani. Laureata in giurisprudenza e abilitata all'esercizio della professione forense di avvocato e all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche, ha preso il posto di Filippina Cocuzza, che era arrivata al palazzo del governo trapanese il 26 maggio del 2021. Il nuovo prefetto di Trapani, che proviene da Piacenza, dove per più di tre anni ha ricoperto lo stesso incarico, non è comunque alla sua prima esperienza in Sicilia occidentale. Nell'aprile del 2019 ha infatti assunto l'incarico di vice prefetto vicario di Palermo, svolgendo anche le funzioni di regente per circa un mese. Fra gli innumerevoli e prestigiosi incarichi ricoperti dal prefetto Daniela Lupo, tra i quali numerose nomine commissariali in comuni e ASP, anche quello di coordinatrice del tavolo tecnico per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico. Il neoprefetto di Trapani, che ieri ha incontrato la stampa, è anche cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, datato 2 giugno del 2012. È un territorio che ha delle bellezze e una storia importante, sicuramente da approfondire e da esaminare con una responsabile conoscenza ed un approccio anche pratico. Spero di portare quello che è il mio bagaglio di esperienze e di ricevere tutte quelle informazioni necessarie a fare ancora di più. Sicuramente credo nella partecipazione, nella realizzazione di alcuni obiettivi che per la loro complessità devono necessariamente passare da quel coinvolgimento da parte di tutte le componenti, quindi non solo forse dell'ordine, autorità giudiziaria, enti locali ma anche della cittadinanza, della cittadinanza attiva. Ecco, questo è l'impegno che assumo nel ringraziare l'amministrazione per avermi designato e per avermi mandato in questa terra che da oggi è anche la mia terra.